ciao a tutti io sono marco e benvenuti su rap top oggi vi portiamo nel cuore della scena rap italiana con l'uscita a sorpresa di adrenalina il nuovo singolo di baby gang che anticipa il suo album l'angelo del male baby gang ha lanciato adrenalina con una mossa di marketing che ha catturato l'attenzione di tutti un countdown nelle sue storie instagram prontamente ricondiviso da pesi massimi come marrakesh e blanco ma non è solo il countdown a far parlare nel brano marrakesh ha lasciato il suo segno con una barra che colpisce dritto al cuore dell'attualità il rapper di barona ha infatti citato il famoso pandoro gate il caso mediatico che ha coinvolto chiara ferragni e l'azienda balocco diventando argomento di grande discussione in italia questo tipo di riferimenti è tipico delle ultime uscite di marra che ama parlare nella sua musica di eventi e temi contemporanei le reazioni a questa strofa sono divise c'è chi apprezza la capacità di marra di rimanere ancorato all'attualità nelle sue rime e chi invece preferirebbe un approccio senza incursioni nel gossip o nelle polemiche attuali e tu da che parte stai l'angelo del male di baby gang promette di essere un album ricco di sorprese con collaborazioni di massimo livello come quella di marrakesh tutto questo è solo un assaggio di quello che ci aspetta e allora cosa ne pensate marrakesh ha fatto centro o ha mancato il bersaglio lasciate i vostri commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al rapto per non perdere nessuna novità dal mondo del rap a presto con altre notizie analisi e tutto ciò che fa parte del rap italiano Dove sei come una vertigine lontana mi chiama